In quell'osi di pace che è la riserva del fiume Veratempera, l'ASBUC ha realizzato dei nuovi percorsi che aprirà il pubblico domani con una passeggiata ecologica. Percorsi pedonali realizzati dai usi civici nell'ambito di una richiesta che da tempo si faceva all'ente gestore per realizzare una sentieristica per una fruizione meno impattante. La riserva è di 30 ettari ma si usava solo in minima parte, cioè nel corridoleo che costeggia il fiume sino alla cascata. Il progetto è anche di natura turistica e realizzato grazie al contributo di Regione e ASBUC. È stata rifatta pure la staccionata. Nella zona ci sono anche il mulino che è diventato una centrale idroelettrica e una rameria che oggi è chiusa. Nel tempo ci sono state diverse questioni polemiche legate all'uso delle strutture che le associazioni locali volevano a servizio del territorio della riserva per fare un centro visite ad esempio. Si tratta comunque di interventi che l'ASBUC chiedeva da tempo al comune che via via stanno realizzando loro. Sarà un percorso meno impattante perché si trova proprio sulla linea di esproprio della zona A della riserva e quindi va a delimitare sia il perimetro in più crea una sentieristica che praticamente si allontana da quello che è al cuore della riserva dove c'è più sensibilità, bisogna avere più attenzione per queste zone centrali. Abbiamo organizzato domani una passeggiata ecologica proprio per far ritornare anche i cittadini di Tempera a rivisitare le sorgenti perché col tempo piano piano l'interesse un po' stava scemando, un po' dall'insieme di fattori si era perso un po' il contatto e allora domani con questa passeggiata che illustra oltretutto appunto questi sentieri che hanno sicuramente abbellito il territorio, ricreare l'interesse e per insieme cercare poi di seguitare il percorso perché questi sentieri hanno raggiunto, se noi andiamo a monte, anche la zona di uso civico dove noi contiamo di proseguire la valorizzazione del territorio proprio per allontanarci sempre di più da quello che è il cuore pulsante della riserva che merita una fruizione molto più curata, molto più gestita. È il luogo più fresco dell'Aquila questo lo possiamo dire, fa piacere stare qui? Credo di sì ma non è che lo diciamo noi, lo dicono le presenze che ogni giorno ci sono.